Sui rifiuti abbiamo un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, ha annunciato il sindaco Nardella. Entro il prossimo mandato arrivare al 75% di raccolta differenziata. Per arrivare a questo dobbiamo aumentare in modo considerevole la raccolta porta a porta, come già stanno facendo in alcuni comuni intorno a Firenze. Inoltre abbiamo già il piano per aumentare i cassonetti interrati, che funzionano bene e sono anche poco impattanti dal punto di vista paesaggistico. Il porta a porta inizierà dalle periferie. Perché noi dobbiamo introdurre il porta a porta nelle zone confinanti con i comuni dove c'è già il porta a porta. Perché si deve evitare cosa? Un fenomeno che i cittadini purtroppo conoscono, e cioè quello della migrazione dei rifiuti da una zona dove c'è il porta a porta alla zona dove ci sono i cassonetti. Verrà superato, spiega il sindaco, il modello con la chiavetta. Che a mio avviso non ha dato i risultati che ci aspettavamo dal punto di vista della raccolta differenziata. Sarà importante inoltre l'utilizzo delle nuove tecnologie. Per introdurre la cosiddetta tariffa puntuale, la tari puntuale, ovvero il metodo per il quale si paga in base a quanto effettivamente si produce di rifiuti. Questo modello noi intendiamo portarlo in fondo entro i prossimi cinque anni. Le tre cose insieme, cioè raccolta porta a porta, cassonetti interrati, superamento del meccanismo tradizionale della chiavetta, insieme alle nuove tecnologie, sono sicuro che ci porteranno a questo obiettivo del 75% di raccolta differenziata.